o siamo in diretta e le chiescusi si presenti e sono sempre io franco l'americano si siamo in diretta dallo studio show di casa cassinesi studio 5 studio show studio show è studio show guardate c'è radio show partiamo da radio show facciamo vedere che si dispresenta radio show ringraziamo ovviamente lu smile isabel delta informatica svevo caffè e la giusi della stazione per avere tutte queste informazioni basta andare sulla pagina facebook dj vittorio cassinesi bevono anche qua bevono anche caffè svevo fai vedere che bella tazzina ci abbiamo oggi guardate tazzina del caffè svevo maestro maestro barone barone abbiamo il barone siamo in diretta allora mettiamo la telecamera puntata sì adesso che siamo ben inquadrati sì mi vedi sì certamente certamente allora siamo ben inquadrati sì posso entrare anche aspetta sì posso entrare anch'io a far parte nella diretta nel gruppo qua o aspetti che sei collegato qualcuno chi stia e salutiamo quelli che sono collegati vedete benvenuti a tutti quanti voi il nostro franco l'americano si vuole ricordare un appuntamento che si terrà domani domenica di 11 ottobre alle ore 10 e 30 precedenti ti raccomando ti è venuto in mena perché facciamo un po' prima 10 e 29 e 40 secondi va bene rompi comunque l'appuntamento lo diciamo ai nostri amici che stanno guardando la diretta e chi guarderà domenica 11 di ottobre si alle ore 10 e 30 ci sarà il radio show chi siamo noi del radio show con il co conduttore raffaele il barone girasole nicola casilese 78 e franco l'a dedicare il cacantante mancante da un mese che mancava una tournée lunghissima questa tournée adesso è terminata adesso ci dedichiamo al canta show vado bene che facciamo adesso indifferente vado bene è napoletano questo drammare questo drammbo faccio le pari a raffaele faccio le pari a raffaele fa scherzi a canto cantante che ti fa bene tramonta luna e nulla e le città l'ultima scena Restavo mano a mano Senza teni un coraggio di parlare Fanno quella che è fuori Indipendente Tanto staccia che so Che sì, che sì Ma te non so più niente Per te non sono più niente E da una scuola Non aspettare diman Non aspettare domani Che indipendente Se tu immagini Io non so di niente Il cacantante Franco l'americano Appuntamento alle ore 10.30 Di domenica 11 ottobre Radio show con Vittorio Gassinesi Il co-conduttore Raffaele E il cacantante Franco l'americano E ho lui per parole Gira sole Olè! E ride pure E ride pure Mentre me scipo Fietto di sto cor Non sento più dolore E non sento più lacrime E non sento più dolore E non sento più dolore Mamma che è la che vu Mamma che è la che vu E non sento più dolore E non sento più dolore E non sento più dolore Salutiamo gli amici che sono collegati in questo momento è damma, è damma, è damma è damma il tuo volere non hai spazzato di mano perché, perché? è indifferente soffri soffri, soffri è indifferente è indifferente ciò perda a te ok grazie, grazie grazie a tutti quanti voi per aver seguito questa diretta ricordiamo appuntamento mi raccomando se l'hai detto tu io sono cialà allo studio show ovviamente di radio show appuntamento domenica alle ore 10 e 30 non va da messa domani non va da messa lui però va dopo perché fa penitenza e poi va la messa alle 7 alle 11 e 30 va la sera alle 7 va la sera ben ricordiamo l'appuntamento salutiamo ciao a tutti grazie per aver seguito domenica 11 ottobre ore 10 e 30 Vittorio Casinini presenta radio show con Raffaele Ricciardelli detto un co-conduttore salutiamo salutiamo i nostri collaboratori ovviamente salutiamo e ringraziamo Isabella Lu Smile Caffè Svevo Delta Informatica e la Giussi della Stazione va bene ciao adesso signori vi lasciamo buona serata grazie a tutti è che ti hai detto Gemini Già eh sì beh è certo e vabbè che vuoi fare se non sono così noi non lo vogliamo grazie a tutti grazie a tutti